Salve a tutti e bentornati su Jazz Convention on TV. Paula Morel-Embau è la protagonista della Real Interview di questa settimana. L'intervista in inglese è stata registrata da Fabio Ciminiera in occasione del recente concerto tenuto a Pescara dalla cantante brasiliana con il suo boss Seranova Trio. Sono come di consueto tre le recensioni in un page, Shadow Man, il nuovo lavoro del quartetto Snake Oil di Timborn, Miami di Battista Lena e Lift Music, Ensemble e Mana di Luca Dell'Anna. Nella sezione articoli potrete leggere Invenzioni fuori dal dogma, il racconto di Aldo Del Noce relativo al concerto al Gate Institute di Palermo tenuto dal trio Slow Fox. Ricordiamo ai musicisti e agli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine Agenda e Comunicati del sito. Potrete trovare tutto questo con continui aggiornamenti e contributi sempre nuovi naturalmente su www.jazzconvention.net e sulle nostre pagine dei principali social network. Vi saluto e vi aspetto la settimana prossima sempre su Jazz Convention on TV. Grazie a tutti. Terima Grazie a tutti